Quanto hai tu Giuse? 4,260 Eh ok, si sicuramente Ma tu ne hai più di me? Io 4309, eh perchè ho fatto 3 gare in guadagno alle mani Bastardo Ho fatto tipo 150 solo alle mani Ok, di solito vado a 150 punti della rating a... a week Eh si, con 3 gare Praticamente, 3-4 gare Si è Ah, invece la prossima c'è l'urbo di Grand Prix Bello, quello senza la... non c'ha la chicane C'è la chicane prima, quella stretta No, se è il base Wack, quello con la chicane larga No, non è il base Wack, è il Grand Prix E basta Mmm... se è il Grand Prix Allora probabilmente la chicane, però strano perchè Cioè, dovrebbero usare quello del Wack Questa serie qui è quello del Wack C'è scritto nel calendario Grand Prix Best Wack Invece solo Grand Prix c'è scritto Meno che ne hanno messo così, sono sbagliati Boh, vediamo Poi è fresco perchè è late afternoon, quindi è buono Meno quello, però è stretta Ah, e poi c'è Severeign Night l'hanno messa, che figata Nooo, che schifo Che schifo, Severeign Night L'aeroport Cattarone Sai che sia a Spa e sia a Severeign Night Per vedere di più si illuminavano gli schermi del monitor Cioè si facevano cose del genere Che ci ne sa Comunque c'è gara 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sono una meglio dell'altra Dopo Dopo le man Ah, vedi bene, stasera c'è le Nesi C'è antitero Dai Dai Ciao Alfo Ciao Alfo Crepi il lupo Allora quanti c'è ci sono? Guarda che palle Cioè allora Nesi non lo vediamo neanche col binocolo Vediamo Saviare Vi ho circa 5 Latt di energia Vi chiedere Nervi Asi Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 There's the flag. It's over. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, 22 litri. Grazie a tutti. Quanto ce l'hai tu? Cinquanta e quattro. Ah, probabilmente è giusto il setup. Good luck. Grazie a tutti. Comunque, come si è? Comunque quasi tutte Ferrari, eh? Comunque quasi tutte Ferrari, eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si, ma si dovrebbe, eh? Si, ma si dovrebbe, eh, si dovrebbe, eh? Yeah, grazie a tutti. 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 state 14 17 io dietro contiene un cazzo la 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 Alla prossima 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 Alla prossima